primo pareggio per la capolista marca nel campionato di terza categoria girone c che viene fermata dalla macca 3 sul campo di serra stretta due a due il risultato finale e si fa avvicinare in classifica dalle inseguitrici le scalibur fronti che batte due a uno il cortale e il conflenti che vince 1 a 0 con il ultimo in classifica contro la squadra ultima in classifica appunto in serra stretta a due punti le scale burro dai 19 del barca e a 4 il conflenti a 15 punti e per quanto riguarda il giri falco ottimo pareggio in casa che recupera lo svantaggio iniziale contro il belvedere mentre non va bene alle altre squadre della zona il maida perde 4 a 5 in caso contro il ferroleto mentre il curinga viene sconfitto 3 a 0 a longobardi